La curva pandemica non decresce ma le marche restano zona bianca così come restano catalogate a rischio basso assieme ad altre 11 regioni italiane. E questa l'etichetta appiccicata sulle marche nel venerdì in cui la cabina sanitaria di monitoraggio nazionale decide sui cambi di colore di un'Italia che da lunedì 30 agosto tornerà ad avere una macchia gialla in Sicilia. Le marche sono invece a rischio basso nonostante una settimana che ha vissuto degli effetti delle ferie ferragostane. A cominciare dall'incidenza del tasso cumulativo ogni 100.000 abitanti passato dai 71 casi di venerdì scorso agli 82 di oggi. Per il terzo giorno consecutivo le marche si attestano così sopra i 200 casi di contagio giornalieri, 222 quelli registrati oggi con la provincia di Macerata ancora a trainare il carico con 67 casi e la provincia di Pesaro Urbino a seguirla con 61. La percentuale di tamponi positivi al contagio sale così al 16,9%. Sono invece quattro i ricoveri in più rispetto a ieri con 81 pazienti in degenza nelle strutture ospedaliere marchigiane mentre restano stabili le terapie intensive con 11 pazienti.